Ma diciamo che ci avviamo a completare questo ospedale modulare su tre blocchi, quello principale all'ospedale del mare, già inaugurato, questo del Ruggi, altri 24 posti letto di terapia intensiva e quello del Sant'Anna e San Sebastiano a Caserta. Complessivamente avremo 120 posti letto di terapia intensiva. Ovviamente oggi non abbiamo una grande domanda di terapia intensiva, ma ci stiamo preparando per settembre-ottobre dove dobbiamo aspettarci ovviamente un'epidemia di influenza e quindi un'enorme quantità di accessi agli ospedali e ci sarà anche ovviamente una commistione di sintomatologie perché avremo magari pazienti influenzati che devono essere controllati per accertare che non siano malati Covid e quant'altro. Quindi stiamo preparandoci al meglio.